Mitchell, scendi le scale e torna in strada. Dobbiamo fermare Hades. Bravo, il K-1 risponda la vostra. Contatto, ore no! Da qui non lo vedo! Punizioni esaurite! Salve a terra! Contatto, ore 11! Uomo a terra! Contatto, ore 12! Di qua! Forza! Passeremo sul retro per intercettarlo! Bravo, K-1 in arrivo. Via, via! Mettetevi al riparo! Occhio ai civili! Contatto! K-1 in arrivo! Occhio agli angoli! Occhio agli angoli! Contatto! Fuoco di soppressione! Altri K-1! Alfa, c'è troppa interferenza! Come siete messi? Ci sono K-1 dappertutto! Avanzate e bloccate Hades! Roger! Contatto! Ingresso! Via terra! Contatto! Ore 11! Versaglio a terra! Uomo a terra! Uomo a terra! Uomo a terra! Crenata! Viva! Cap! Versaglio a terra! Uomo a terra! Finestra! Al primo piano! Contatto! Ore 1! Cambio caricatore! Contatto! Ore 12! Unito a terra! Unito a terra! Contatto! Ore 11! 15! Contatto! 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 Ore 3! Versaglio a terra! No, no! Non è che... Non è che... Non è che... Non è che... Uomo a terra! Fuoco! Uomo a terra! Contatto! Balcone! Contatto! Di 1! Versaglio a terra! Se ne vanno! Ranzi! Falli fuori! Bersaglio a terra! Buono a terra! Contatto! Ore 13! Passage! Anche! Colton! Percival! Non è che... Ero! Non è che... Passare! Passare! Ero! Non è che... Tu non è che... Ero! Non è che... ! Staglio a terra! Mitchell, apri la porta! Arrivano gli spazi del KVA! Stai vicino! A tutte le unità, con voce viate, diretto a sud. Contatto al campanile sul... Torre, puoi ripetere? Uomo a terra, uomo a terra! Cecchino al campanile! Cazzo! Abbiamo un cecchino! Fumogeno! Andiamo prima che il fumo si diradi! Salta! Ti copro io! Giù! Via dalle finestre! State tutti lontano dalle finestre! Cazzo! È una bella corsa! Vai per primo o preferisci coprirmi? Lo tengo occupato! Vai, Mitchell! Fuoco di soppressione! Vado! Tienilo occupato! Andiamo! In strada il cecchino non può colpirci! Droni KV-A! A riparo! Droni sistemati! Andiamo dal cecchino! Nel ristorante! Per l'ingresso! Prover, ho trovato Torres! È ferito! Ricevuto, bravo! Mando un medico! Trova Rivers! Allo Stinger! Merda! Ci serve quello Stinger! Andiamo! Ecco Rivers! Secondo piano! Ci serve lo Stinger! Ti compro io! Hai preso lo Stinger! Contro quel cecchino serve uno Stinger! Droni abbattuti! Prendi lo Stinger! Stinger! Prenditi! Prenditi! Tiro al bastardo. Bravo, Ades a quattro minuti dalla meta. Ricevuto. Bravo, è sull'obiettivo. Andiamo! Dammi una mano, Mitchell! Bravo, convoglio di Ades a due minuti. Ricevuto. Intercettiamo. Là, gli faremo un'imboscata da laggiù. Bravo, Ades in arrivo. Ricevuto. Mitchell, le cariche. A riparo. Al mio segnale. Ora! Bravo, non mollate. Ades a fermare. Avanti! Dobbiamo farli fuori! E in movimento! Andiamo! Via! E' un'altra. Guardi, via! Guardi, via! E' un ribeglie. Soltati! Nemici in vista! siblings? Hades va protetto! Ecco il mezzo di Hades! Ci siamo quasi! Hades va protetto! Nemico, Aure 12! Aure 12! Medico! Serve un medico! Lancia una granata! Aure 12! Aure 12! Guardiamolo fuori! Contatto! Fore 11! Ok! Le vie sono libere! Prophet, siamo su Hades! Ricevuto! Attenti! Arrivano altri KVA! Svelto Mitchell! Ti copro! Mitchell, attento! Mitchell, attento! Miri sono Oh... Oh... Ti ringrazio. Ok, adesso ti tiro fuori. Sì, confermato. Morto. Ades è morto. Lo ripeto. Ades è morto. Lui... sa... Irons. Sa... Che cosa sa Irons? Grazie. 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 La morte di Ades aveva sollevato altre domande. Ma almeno l'avevamo tolto di mezzo. Era l'inizio di un nuovo capitolo. Per tutti noi. Ormai il tempo è scaduto per Joseph Cecchese. Meglio conosciuto come Ades. Leader del KVA e mente dei devastanti attentati terroristici di quattro anni fa. Di recente abbiamo parlato con Jonathan Irons. Fondatore e CEO di Atlas International, la corporazione militare privata che finalmente è riuscita a scovare e uccidere Ades. Complimenti per essere riuscito là dove i governi hanno fallito. Grazie, Wendy, ma il merito è degli uomini e delle donne di Atlas. Non potrei essere più orgoglioso di così. Giravoce che l'ONU le offrirà un seggio al Consiglio di Sicurezza. Sarà forse l'inizio di una carriera politica? Sono un uomo concreto io. Quindi no. Ma guardate New Baghdad. 40 anni fa ce ne siamo andati con la coda tra le gambe lasciando l'Iraq in macerie. Oggi dimostriamo cosa si ottiene anteponendo l'efficienza alla burocrazia. In questi anni Atlas è cresciuta molto. Dopo gli attacchi del KVA è diventata la corporazione più grande al mondo. e ora lei si ritrova a comandare l'esercito più grande del pianeta. Quali sono i piani di Jonathan Irons? Come ci si sente a essere l'eroe del mondo? Non montarti là. Gideon, Mitchell, devo vedervi. Subito. Ilona, che c'è? La sala manutenzione 6A. Soltanto voi. Ok, arriviamo. Vediamo che cosa vuole. Salve, signore. Pazzesco che questa sia Baghdad. Due anni fa ti sparavano appena uscivi. Adesso è una città coi controcazzi. Grazie. Ieri Echo ha distrutto un'altra cellula KVA. Ormai sono fregati. Hades era la chiave di tutto. Il mondo è a corto di cattivi, amico. Forse la tua pensione è dietro l'angolo. Salve, signore. Eccoci. Qualcuno sa che siete qui? No, ma che... Lo Scrambler ci darà pochi minuti. Sincronizzatevi con me, vi mostro una cosa. Ma che cazzo succede? Guardate, basta. È Irons, con il tecnico che avete salvato. Quello finito nel fiume. Non è mai tornato in Nigeria. Il KVA sta preparando un attacco. Mi hanno detto tutto. Che... Che tipo di attacco? Centrale. In tutto il mondo. Volevano farmi manomettere i sistemi di sicurezza. Ma... Dove intendono attaccare? Seattle, Parigi, Tokyo. Sarà una strage. Dobbiamo dirlo a qualcuno. No. Dobbiamo dirlo a tutti. Tranquillo. Non preoccuparti. Intendo occuparmene subito. Fa un culo. Lo sapeva. Eppure ha lasciato che accadesse. Ha sfruttato a suo vantaggio la morte di tutta quella gente. Dove l'hai preso? Ades. Ci è stato dato da lui poco prima che morisse. E se fosse un fa... Era in codice e criptato con il nostro algoritmo. È di Atlas. Soltanto noi l'abbiamo visto. Dobbiamo andarcene. Subito! Sappiamo. Abbiamo visto tutto. Visto che cosa? Sapeva degli attacchi. Quelle persone... È solo il filmato fasullo di un terrorista. Lei è un pazzo! Un mostro! Mi hai deluso. Potevi avere tutto. Teneteli qui finché ci sono i giornalisti. Gideon. Signor sì. Gideon! Ma lo hai visto anche tu? Dice che è falso. Ha fatto la sua scelta. Fermo dove sei! Ascoltate. Abbiamo violato i vostri Axo. Dovete fidarvi. Tra dieci secondi scatterà il sistema antincendio. E mettevi pronti a correre. Sềui retirare. Abbatevi p smiling. Abbatevi pious. Abbatevi p проблемы. Abbatevi p康 something. Mele p MARK. dobbiamo andarci ora chi sei le porte antincendio sono chiuse non possiamo intercettare i fuggitivi bisogna aprirle subito cazzo bloccati resisti dovete salire sul tetto dovremo usare i guanti magnetici attiveranno uno sciame di drool avrete pochi secondi quando sarete sul tetto saremo in dobbiamo andarcene subito dallo sciame di qua apro i cancelli attraversate il tetto e saltate la ringhiera all'apertura siamo troppo in alto fatelo ora le foglie sono davanti a voi andate a 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 il porto è più avanti troverete un'imbarcazione in fondo alla banchina amici a nord AST in arrivo uomo a terra AST amici a sinistra granata a 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 attaccati a quella sporgenza dovremo usare i guanti magnetici a 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 attento a 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 te lo ricordi il tuo sergente a 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 hai molte domande meriti delle risposte finora siamo rimasti nell'ombra in attesa vigili siamo nati quattro anni fa un'unità mista a guida americana chiamata sentine la missione indagare sugli attacchi del kva e impedire che ce ne fossero degli altri ma è subito emersa una minaccia più grande un uomo pronto a sfruttare questa tragedia per i suoi fini dopo gli attacchi atlas è cresciuta molto ha gestito la sicurezza di porti infrastrutture e rotte nazione dopo nazione hanno affidato le loro risorse vitali a jonathan irons ormai era cosa fatta ci circondava ultimamente c'è stato un picco di comunicazioni is a c'è un termine ricorrente manticore atlas sta per colpire ma non sappiamo come salvarti è stato rischioso ma puoi aiutarci a scoprire cos'è manticore e a fermarlo allora michel ci stai? eccolo siamo arrivati al momento cruciale è bello riavervi tra noi nonostante la situazione avremo contro i nostri vecchi compagni gente che ha lottato con noi so che è dura ma so anche che potete farcela oggi si decide tutto squadra l'operazione lone wolf può iniziare grazie a michel sappiamo che irons ha in programma un incontro nella sua tenuta io guiderò l'inserimento e i seal penseranno all'estrazione irons è la priorità ci infiltreremo per scoprire la sua prossima mossa si comincia nox situazione mi sto collegando alla rete dei droni ma fatto allontano le patuglie via al tempo kingpin siamo all'ingresso ricevuto bussate pure ganci pronti kingpin procediamo al checkpoint 1 ricevuto vi teniamo d'occhio alla prossima qui si si in al Ah no ora siamo Andiamo, anche a poco. La legge di Irons. Ecco che cosa si ottiene ammazzando gli innocenti. Io rintraccio Irons. Dobbiamo esserci quando incontro il suo contatto. Milone, vieni. Andiamo. Mitchell, attivo la tua ottica AR. Tracciamento bersaglio online. Ok, marca un contatto. Ottica a posto. Sincronizzazione con la rete dei droni. Possiamo tracciare chiunque nel raggio di 500 metri. Ok, Mitchell. Vai al centro sicurezza e collegami ai loro sistemi. Fermo. Limiti a sinistra. Entra nei cespugli. Sistema anche quell'altro. Aspetta che si avvicini. Saremo furtivi. Uccidilo. Ok, Mitchell. Il centro sicurezza è sul retro. Devi fare il giro. Ci sono addosso. Ottimo. Libero. Nemico, sotto. Non ingaggiare il drone. Schierano i droni. Contatto a destra. Ottimo. Sali sul tetto. Sparisci. Allarme sicurezza. Evacuare gli aspetti. Sali sul tetto. Ci sono addosso. Ottimo. Sali sul tetto. Sali sul tetto. Sali sul tetto. I sistemi saranno fuori uso per un paio di minuti. Pedi di sfruttarli. Speriamo che le impronte digitali funzionino. Trasmissione impronte. Ci sono. Ok. Controllo le telecamere. Ottimo lavoro. Vattene. I droni si riattivano. Torna sul tetto. Veloce, Mitchell. Cormac, siamo dentro. Ben fatto. Mitchell, vediamoci nell'ufficio di Agus. Luna, coprici. Ricevuto. Mitchell, al giardino davanti. Resta di compra. Si, che si ne sa. Sali sul tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ci siamo. Hai trovato Irons? Negativo. La sua scrivania. Cominciamo. La sua scrivania. Cominciamo. Ho trovato qualcosa. Nox, abbiamo trovato tutto. L'incontro sarà all'hangar, tra poco. L'hangar è isolato. Non ho visuale. Non sarà facile entrarci. Cazzo. Nox, c'è un problema. Il sistema ci ha tagliati fuori. Lo vedo. Sono in massima allerta. Arrivano delle pattuglie. Dovete andarvene. Arriva un convoglio. Ingresso nord-ovest. 30 secondi. Veloce Mitchell. Opertiamo il passaggio. Ci porterà dritti all'hangar. Il convoglio sta arrivando. Ecco il convoglio. Nox, dobbiamo portarci in posizione. Se il citofono è temporeggia. Roger. Mitchell, seguimi al mio segnale. Posizione. Se il citofono è temporeggia. Roger. Mitchell, seguimi al mio segnale. Salve. La sua ceneva è il cuore dei passaggiori. Ora. Salve, Ted Vox. E qui con me c'è il dottor Bellano. Deve vedere il signor Ivers. Un momento. Ci siamo, Nox. Ok, potete andare. Vi aspettano. Qua lascerate. Bella, P. Nox, fa una ricerca. Già fatto. È un alias del dottor Pierre Danois. Quello del KVA. Iluna, stavo forse a marcire in cella. Anch'io. No. Ha dato qualcosa. Ricevuto. Dottor Bellamy. C'è un problema di sicurezza. Che succede? Venga. Il signor Ivers è di qua. Siamo in pericolo. Chi c'è? Spiacente, signore. Abbiamo degli ordini da seguire. Vieni. Scombrare l'area e prepararti al trasferimento. Container 726, priorità Alpha Omega. Ripeto, container 726, priorità Alpha Omega. Tutto il personale non essenziale si recchia a livello inferiore per l'identificazione. Ok, Nox. Apro il canale. Confermato. Pronto a ricevere. Arriva. Joe R. L'area è l'ufficio principale. Se il sito di rischio matricola e gruppi di spedizione coincidono, non ci saranno problemi. Non vorrei che gli intrusi scoprissero che cosa c'è dentro il container, dottore. Stiamo facendo il possibile. Manticore è instabile. È altamente volatile. La ringrazio per l'avvertimento. Verrei meno alla mia parola se un'esposizione prematura rovinasse i suoi piani. Ti è tranquillo, Danua. Ha già i soldi sul trono. Da qui in poi facciamo da solo. Liberare le frequenze radio. Personale di terra, avviare le procedure di decollo. Romeo Victor November. In quel carico c'è Manticore. Dobbiamo scoprire dove è diretto. Vincere, vieni. Nox, ci avviciniamo al carico. Cormac, il carico è già a bordo. È troppo tardi. Voglio la squadra di recupero al punto delta. Brighiamoci. Distruggiamoli. Corri, Mitchell. Ce la faremo. Pronto con il rampino. Via, via, via. Stracciatore. Pronto, Mitchell. Stracciatore. Sgancio. Ce li abbiamo, Kimping. Ok, portateli a casa. Ben fatto, squadra. Vediamo dove portano il carico. 벌. Ho,رipgro. Dotà. Pona, vediamo. No,моi. Foi. È troppo tardi. Vincere, gioia.